Bene, aggiungiamo del dettaglio al nostro flow. Per prima cosa creiamo un test Spawn nel secondo evento. Questo test consente di inviare le particles ad un altro evento, moltiplicandone il valore di partenza, come già visto con il collision Spawn. Con la impostazione di default l'operatore agirà da tramite, riportando lo stesso identico valore dell'evento precedente, ma sarà approfondito nel video inerente l'esempio del fuoco. Per ora limitiamoci a variare l'inerted, cioè l'eredità, e la divergence, cioè la divergenza. Per ora le particles create non hanno un comportamento ben definito, ma il nostro intento è quello di farle collidere con un deflettore e fermarle, per generare altre parti bagnate sulla nostra superficie. Praticamente è lo stesso comportamento del secondo evento, quindi possiamo copiare il test Collision, l'operatore Force, generando un terzo evento. Notiamo che abbiamo delle particles che nascono anche al di sotto del nostro deflettore, Quindi aggiungiamo un operatore GroupSelection ed un TestSplitGroup, al quale sarà associato il nostro gruppo appena creato. Se ci fate caso in viewport, è apparso una strana icona. Questo helper, o tool come dir si voglia, è reperibile anche dal pannello Create Helpers Particle Flow. Questo tool permette di creare delle aree dove avviene il comportamento descritto dall'evento nel quale esso si trova. Io lo trovo molto comodo per determinare dei limiti di azione, come ad esempio delle aree di Delete. Diciamo che, se siete pratici di RealFlow o software simili, che potrebbe essere come un Key Volume, oltre ad avere altre opzioni disponibili. Vediamo come utilizzarlo per delimitare l'area di nostro interesse. Per prima cosa variamo la sua selezione, da Once a Continuous. Attiviamo l'opzione Inside Icon Volume e modifichiamo la sua forma con il tool Scale. La sua forma a box, per questo esempio, va più che bene. Ovviamente non succede nulla di diverso rispetto a prima. Il motivo è molto semplice. Non abbiamo associato nessun comportamento, e quindi nessun event al nostro split group. Quindi le particelle non subiranno nessuna variazione. Creiamo un evento con un Delete, anche senza l'operatore Display. ed associamoci il nostro ultimo test. Bene, come vediamo ora tutto funziona correttamente. Siamo riusciti a creare un vero e proprio esempio di pioggia, ma vogliamo aggiungere del maggior dettaglio. In modo molto rapido, selezioniamo l'intero flow e cloniamolo come copia. Questo perché andremo a variare solo alcuni piccoli parametri per generare degli splash aggiuntivi e quindi far sì che ci sia maggior realismo nella nostra simulazione. Per prima cosa variamo la generazione casuale delle particles nel Position Icon, quindi clicchiamo su Uniquest. A seguire la velocità dello Speed e l'offspring del Collision Spawn. Nell'evento successivo scambiamo lo Speed con uno Speed by Surface. Ovviamente ci manca la superficie di riferimento, e quindi generiamo un piano e collochiamolo sotto il deflettore ed associamolo al nostro Speed. Nell'operatore possiamo variare la sua divergenza ed assicurarci che sia considerata come direzione le normali della superficie. Nello Spawn variamo la scelta con By Travel Distance. Questa opzione è molto fastidiosa per il particle flow e viene utilizzata per generare delle scie di particelle. Solitamente quando si attiva con i parametri di default il software rallenta un secondo prima di restituire tale informazione visivamente. Consiglio sempre di utilizzarla con cautela e di salvare prima di attivarla. Ad ogni modo impostiamo uno step molto basso, ad esempio uno nel nostro caso. Va più che bene. Modifichiamo anche un minimo la divergenza. All'interno di questo stesso evento copiamo le action inerenti gruppi. Possiamo creare delle instance senza problemi. Modificando questi semplici parametri siamo andati a ricreare un effetto di splash molto più efficace e con un effetto di scia lasciato sulla superficie. Se volessimo avere già della pioggia presente dal primo frame ci basterà variare in negativo l'emissione dei due birth o di uno solo. Vi avverto che ogni tanto possono capitare degli strani bug quando si utilizzano più flow con un solo source. Oppure attivando uno Spawn o altri può capitare che le particles smettano di essere generate inspiegabilmente. Quindi consiglio di seppur opzioni molto comode di utilizzare una sola sorgente nel caso stiate elaborando sistemi complessi o riscontriate anomalie in fase di lavorazione. Bene, il nostro flow è completo a livello di setup.